Da Super Mario Bros A Playstation Xbox Incollato alla televisione Ma solo sei nato Ciao a tutti ragazzi Benvenuti a questo nuovo video Io sono Manuel Aschi Come potete vedere dalla felpa Che mi ha regalato mia sorella Fantastica Spero vi sia piaciuta la canzone di Clash of Clans Tutti giocano a Clash of Clans E vi piace il mio nuovo studio? Guardate che figata Non vi piace? Ne mettiamo un altro Non vi piace ancora? Un altro Non vi piace ancora? Preferite questo? O questo? O questo? O questo? Oggi leggerò e risponderò ai commenti Che mi avete lasciato sull'ultimo vlog La prima Michael Foa Aschi La mia domanda è Come hai fatto a scrivere la canzone Dove ci porta il cuore? È stupenda Comunque vorrei tanto incontrarti Sono il tuo fan numero uno Michael sei un mito Innanzitutto Per scrivere la canzone Dove ci porta il cuore Ho utilizzato Word 2007 La versione è craccata Perché costava troppo Comprarlo Ho scritto con la tastiera E ci ho messo tanto tanto cuore Due Sebi1234 Fai un rap su Hob Peach Tu volevi dire One Piece? E comunque la farò sicuramente Quest'anno farò Sicuramente One Piece E anche Naruto Tempo permettendo Tre Cristia De Santis Come si chiama tuo cugino? Manuel Aschi ti ammiro Anch'io ti ammiro Cristia Mio cugino si chiama Plutonio Lavora in radio Ed è molto attivo Questa Questa è proprio forte Doc È grande Ma senti Funziona con la benzina normale Sfortunatamente no Ha bisogno di qualcosa Di un po' più vivace Plutonio Mi ci sono voluti Quasi trent'anni E tutto il mio Plutonio Per realizzare la visione Di quel giorno Fu il giorno In cui inventai Plutonio Me lo ricordo benissimo Stavo in piedi sul vater Attaccando un lavandino La procellana era bagnata Sono scivolato E ho battuto la testa Sul Plutonio E venne la folla idea Di piantare alberi Di Plutonio Quattro X Demos 001X Mi accetti la richiesta Di amicizia Su Facebook Certo Ma solo Se indovinerai Il mio cognomo 5 Mattia Mosca Sei il migliore Manuel Ma solo una cosa Si dice Vlog E non vlog Lo so Mattia Ma Volevo vedere Se eri a te Sei Andrea D'Aloiso Ciao Aschi Sei un grande Anche tu sei un grande Grande Andrea Anche tu sei un grande 7 Milky Celeste Con i capelli Sembri Max Fezzale Quali capelli? 8 Il leggendario De Matteo 587 Che Ha commentato Quasi tutti i miei video Dal primo all'ultimo Diciamo che Non è Un utente A caso Tra noi due Non ci siamo mai visti Ma c'è Un rapporto di amicizia Molto stretto E mi dice Io ce l'ho una domanda Mai fatta Verrai a Romics? Matteo mi avrà fatto Questa domanda Molte volte E la mia risposta È sempre stata Boh forse Speriamo Magari quest'anno Ciao Matteo Sei un grande 9 J.Kaito Emanuele Riesce a fare un raduno Per un incontro Guarda Forse lo farò Però L'incontro Mi devo allenare Dipende poi Chi è che ho davanti Se mi trovo Creed Comunque Devo schivarli Questi colpi Devo Bah 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 10 Fai un rap su Batman Certamente Lorenzo P Ciao Manuel Sei un grande Come è nata La tua passione Per il rap Allora La mia passione Per il rap Fondamentalmente Stanmente che un giorno ha deciso di farmi ascoltare delle canzoni rap americane quando ero piccolo mi aveva fatto ascoltare forse qualche canzone forse degli articoli all'inizio forse qualche canzone di Eminem, le prime di Eminem e grazie a queste canzoni mi sono cominciato a impassionare il rap oltretutto mi passava tutti i suoi vestiti, ero più piccolo mi passava tutti i suoi vestiti quindi mi vestivo pure largo e quindi ho iniziato così ad apprezzare prima il rap e poi l'hip hop, la cultura hip hop in generale 13. Mystic Fire, freccetta hashtag vlog Manuel, qual è il tuo gioco preferito? Un saluto Francesco allora, io non ho un vero e proprio gioco preferito ho diversi giochi perché dipende un po' dal genere ad esempio nel genere platform, anche lì ne ho più di uno uno è Mario 64, poi ho Banjo-Kazooie poi nel mio cuore rimane sempre Final Fantasy VII, un gioco di ruolo fantastico poi c'è anche Metal Gear Solid 1, 2 anche Zelda Ocarina of Time che rimane veramente un gioco fantastico sono troppi giochi che amo pensavo avessi più capelli lillyfox87, Manuel per favore fai un rap sul gioco Five Night at Freddy, se non lo conosco e se non vuoi ganiente hashtag aski domanda potresti fare, far cantare un rap per vedere tua moglie hashtag manuelaski ti stimo anche io, lilly, ti stimo, sei una leggenda adesso vado a chiamare mia moglie e la faccio cantare ciao, sono la moglie di Manuel Aschi, mi chiamo... non posso dirlo e Manuel Aschi è proprio un bravissimo marito e gli voglio tanto bene e basta avete visto mia moglie? Tizio20 official channel allora ragazzi, Tizio20 è stato il primo youtuber in assoluto a utilizzare una mia canzone per un suo gameplay la mia canzone era Il Capo dei Nerd e l'ho utilizzata per un gameplay di Minecraft che ha fatto conoscere comunque a molte più persone la mia canzone ai tempi grande Tizio, sei un grande Demone, Demone666 una settimana fa che sorpresa, non pensavo che facessi un vlog ho una domanda per te quale delle tue canzoni ti è piaciuto fare? e poi ma anche un altro commento e come cane pensavo che avresti preso un Aschi allora, mi piace fare tutte le canzoni e mi sono mostrato la lingua adesso parlo così e poi non ho un Aschi perché perché gli Aschi sono cani che vanno che sono abituati a stare al freddo qua a Milano si fa freddo però non così tanto poi starebbe in casa e quindi c'è riscaldamento e quindi soffrirebbe un cane come se metti un leone al Polo Nord non è che sta benissimo e poi e poi ho già il mio bellissimo cagnolino grazie mille Marecarena e poi ci sono io che appena vedo Aschi mi metto a battere le mani e urlare ciao Manuel ciao Marika sei una leggenda Yosef è da Rajai Manuel come fai video? cioè ci puoi spiegare il cast allora i video li faccio con la telecamera e il computer e il cast è composto da io 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 e io 27 Federico Palazzi ti propongo una canzone Batman Rap e una domanda ma tua moglie vuol fare i fighi fighi con te e chiediamolo eh amore vuoi fare i fighi fighi con me? ma certamente che voglio fare i fighi fighi con te vini il scratch volevo anche chiederti che zona di Milano abiti sono anche io di Milano grande e sono zona Barona che è la stessa zona di Marrakesh rompipalle e la faccio un po' smonca poi sempre rompipalle dice scherzo ovviamente non voglio offenderti sei il mio idolo allora cari rompipalle il tuo nome dice tutto comunque si avevo la faccio un po' smonca perché sono un po' stanchino Magdalena piloto perché sei triste? non sono triste diciamo che scusa lasciatevi stare Raiden Channel Manuel per favore sii più felice qui sembri triste evita di essere così fai con più risate sii più scherzoso per favore grazie per il video ok allora l'altro giorno non vi dico ho fatto una canzone rap questo te recomando nooo questo è un portafoglio guardate guardate lo sky la penna allora vi racconto una barzelletta visto che sono triste l'altro giorno ero in montagna col mio amico Massimiliano e a un certo punto vedo un cartello con scritto caduta Massi dico oh Massi stai attento lui a cosa? ma cade per terra e si fa male e io dico oh Massi tutto a posto ma si si ma si e dopo questa chiudo e ci vediamo al prossimo video il prossimo video sarà una canzone sempre dedicata ai videogame da Milano è tutto qui è Manuel Aschi vi saluto al prossimo video ciao Antonio Pernotta quello Super Mario ha uno sguardo maligno io non mi fiderei molto quale Super Mario?